Buongiorno dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Nicola Giannattasio. Sulla FIPILIP ci sono rallentamenti per lavori in direzione mare tra Montopoli-Valdarno e Ponte d'Era Est. Chiusa per lavori l'uscita di Tirrenia provenendo da Firenze. Traffico regolare sul resto della rete stradale ed autostradale della Toscana. Su raccordo Siena-Firenze scambio di carreggiata e ristringimento di carreggiata tra San Casciano e l'allacciamento per la 1 di Firenze in pruneta. Ricordiamo che fino a domenica 12 gennaio i comuni di Firenze e dell'agglomerato urbano hanno emesso ordinanze perché si è osservato il blocco dei mezzi più inquinanti. Oversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!